E' un oggetto piove, con molle volo, su di noi, prima che toccasse terra, al riberbero del lampione, una pannottola di carta. Pronto? Pronto, la mia segretaria di Sossilessa Trecchi. Trecchi, Trecchi, che come Torino e come Roma, come ancora due volte che a tezzaro, H come Honduras, Hotel, Hoblet. Quante H ci sono, scusi. La prima strofa comincia così. La 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 e un bascersi di vento, la corsa dietro il vento. Certo, magari può sembrare un po'... come dire... scomodo. Ecco, ma abbiamo dei doveri, le tradizioni, il... Il prestigio della casa. Oh, Octavio, che bravo, se non ci fossi tu! Ce ne sarebbe un'altra. Voi vi aspettate che io parli. Ma perché dovrei parlare? Io sono qui perché è il mio turno. Solo per questo. Io non ho nessuna intenzione di commuovervi. Io non sono innocente. Io non voglio rivedere la mia famiglia. Ma soprattutto io non voglio uscire di qui. Perché in questo penitenziario io vivo felice. Sì, felice. Molto più di voi. Una matita. Un mozzicone, veramente. Trovato per caso in una vecchia scatola. Allora gli ho fatto la punta. E sulla poca carta bianca che mi è rimasta, stanotte io per voi mi rimetterò a scrivere. A presto. 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 A presto.